...accompagnava, però è stato ripreso da chi? Da chi? Da qua, di no, l'unico che fa. Immigratolo mai, la figlia. ...so che è fabbusa, poveri mi da casa. Quindi, Schiara Zula, Mara Zula, l'orchestra classe seconda A-B. ...giù e giù e giù. ...dilige l'orchestra, niente poco di meno che la maestra, Anunziata Maria, con i colleghi l'orchestra. Applausi. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.